siamo al ristorante dove c'è una coppia marito e moglie che stanno mangiando la moglie chiama il cameriere scusi ma sento un pochino freddo se potesse abbassare l'aria condizionata va bene così continuano a mangiare ma dopo dieci minuti la moglie richiama il cameriere scusi adesso è un pochino troppo bassa se potesse rialzare grazie non c'è problema signora sarà fatto passano ancora dieci minuti la signora richiama il cameriere scusi cameriere ora è leggermente troppo alta se potesse riabbassarla di nuovo non c'è problema grazie a lei il cameriere risponde sempre molto gentilmente al tavolo vicino c'è un signore che sta guardando e quando passa il cameriere gli dice senta ma mi faccia capire come fa ad essere così gentile con tali clienti che rompono veramente le scatole ma guardi il nostro compito è di accontentare sempre il cliente poi le dirò neanche ce l'abbiamo l'aria condizionata grazie a tutti